Ciao a tutti ragazzi, qui adesso sono i coi, benvenuti ad un nuovo episodio di Pokémon Mi... No, Mystery Dungeon, un esploratore del tempo. Nello scorso episodio abbiamo conosciuto il team Perfidia e abbiamo... Ecco qua. Dicevo, nello scorso episodio, oh andiamo! Nello scorso episodio abbiamo conosciuto il team Perfidia, l'abbia e abbiamo... No, ti ho fatto! Amico! Dei Caterpie, sconfiggendo il suddetto team e oggi andiamo avanti con la storia! Sto bene casettina! Bello Alex, buongiorno, ci sarebbe così buono oggi E che può essere? Jump Luff Sì, più energetico, proprio così Eh, aspetta Non sei Ebbene sì, questo è lo stesso Jump Luff che aveva qui Questo aiuto a quello Shifter Di I farsi salvare E che sta andato portato a farlo dal team di Agatha Ora ricordo, Jump Luff ti aveva visto in piazza Pokémon E quando Shifter ha deciso di accettare le scuole Sì, no, Shifter Non è ancora tornato dalla pressione di soccorso E quindi Dice davvero? Riko, Jump Luff, rinco sta accattata, avarci E Jump Luff, siamo un terreno impeccato Ma non mi riempiono l'esca, stai stai a giù E vittimo soffiando Che labrezza Shifter è cercato Capace di ceneramenti potentissimi Capace di Shifter è stato il nostro amico Ma Shifter è tornato Stava morto Mi sembra che sia un'ottima leggera strana Questo spirito giusto, Alex, la mia tua espressione dice tutto Quindi, non so di sì Il mio piatto Andremo a cercarli Davvero? Che ragazze? Andiamo No, Alex Ok Andiamo No, 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 no No, no No, no Andiamo Il prima cosa E contare Mark Nemite Il 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 questo in fondo è un custodio di ruolo Sì, ti distruggono, ho bisogno di vostro aiuto Non ti preoccupare Andiamo, Alex Sì? Qualcosa va? Dovrei arrivare la cosa Tiro un vecchio davvero silenzio Si dice che qui dorme un terribile ostro OSTRO?! Cambio di espressione Ma è molto... E' strano Ma cosa sei? E' vero che il ship trova il corretto intorno? E' corrente Aiaa Che puttipazza Oh, qualcosa è nuovo E' un magito che finta Troppina E' qualcosa di spariato Qualezione Di denti No, è giusto No E' Cosa ti succede, Alex? Non viva forte! E' una squadra di estitoria Cosa dobbiamo in questa scelta? Da Pikachu? Ehm, sì Ehm, è passato tutto Hahahaha Ovunque sempre Se decine Se decine Di 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 dare letto a Pikachu Già Mi chiede effettivamente Se avete una popolazione Di questo Porto a chiedere se mai I personaggi Di questo Questo gioco Angelo Cioè Inesploratori del tempo Lo sappiamo Speriamo che c'è No O almeno Fin quando Voi restate alla ginta DETTAGIO OK Mi hai detto Mi sei promosso Mi sei aspettato Sono informato Bella Non so se esiste davvero C'è paolo di Perché Ehm, questo non esista Perché c'è paolo Devevo sapere Un 10 A volte E' quasi un re Con tutti Quelli che ci diamo Le missioni importanti Un'arma Dungeon finisce Al piano Bla 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 Prefia attenzione Ok, c'era sconfitti Andiamo E andiamo E' solo Il suo silenzio Come In tutti Dungeon Grazie Si farò Soltato Il primo I Soltato Un�� Sulla Senso Affiliate Oh Non Sulla machto Que madam Certo Un Un E' un po' di potevo E' un po' di potevo Adesso vado a vedere Mi hanno scordaci Grazie Crepa Crepa Si Ah non so se lo sapete E per tenermi meglio Ho deciso che Poi Esploriamo tutti i piani prima Esploriamo poi un intero piano Prima di passare al prossimo E' un po' di Per evitare Di non Che può soffrire troppo Nei giochi di misteri d'angelo Tipo una peggio O di qualsiasi altro gioco E si si C'è un po' di potevo Fatto Non è questo il luogo che io Jumpluff dovrebbe trovarsi E tu Guardate il tuo posto Ci fai Sto qui nella monta Ok Aspetta Shift 3 qui dietro Eh? Shift 3? Andiamo E' tutto bene Questa è il sesto E' il trattato E' il trattato Un'altra Qui Nello verbo Veruista Tipo Stracate sono il mondo fatemi la parte costo io ho usato di sturbare il mio sogno non ho pietà per il calasso e lo faccio a sconti a nessuno si lo so ragazzi e questa voce non sembra proprio la più terrificante nel mondo e di certo non può eto non sta bene su un po' con un leggendario quale Zapdos però mi diverte troppo a farlo il suo segretario è sparito sono Zapdos tra angolo e forza dai culmini per salvare Shiptrida e scalare il monte tuono Zapdos è un mostro leggendario Zopdos è uno dei pokemon uccello leggendario Ho sentito che era addormentato da tanto tempo. E Shiftry l'ha sbagliato? No. Il vento di Shiftry è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. All'inizio l'assenza di vento era comunque innaturale. Dove essere stata causata dalla recente serie di catastrofi in attuali. Zapdos e folle d'ira avesse stato trastrappato a suo sonno. Bisogna salvare Shiftry. Zapdos sarà un osso duro. I suoi attacchi elettrici sono tremendi. Lo so. Dovremmo stare in guerra. Vedremo anche noi. Vogliamo aiutare Shiftry. Cosa? Non è pericoloso. Zapdos è forte. Non si vede alla sua altezza. Aspetta un momento che siamo mica così deboli. E poi Zapdos non ci spaventa. Vero Alex? Sì. In realtà sì. Però... Avete messo giunto i suoi colpi elettrici. Lasciano storditi e trevanti. Non so se non so dura. Non sarete neanche lo spuntino per lui. Mi fa paura. Ma io purtroppo questa volta non ormai esce il top. Ho di avere paura. Quindi non so cosa succederebbe sempre. Che noi siamo una squadra di soccorso. Vogliamo aiutare Shiftry. Vado bene. Credo che avete coraggio. Sì! La stessa squadra è aggiungere Montetuolo separatamente. Noi partiremo quando ci sentiremo pronti per la lotta. Sapendo quando è forte il nostro avversario non ci resta che essere prudenti. Anche questo è aggiungere Montetuoso con dei sentimenti in forma. Letta velocemente per il limite di 10 minuti di Bandicam. Il nostro obiettivo è salvare Shiftry. Non solo messi passi falsi. Sì! L'intero facendo mi sta prendendo! Alex facciamo dire che si... Yeee! Bene ragazzi! Il video finisce qui. Vi ricordo come al solito i commentari. Iscrivetevi se non avete ancora fatto idea di lasciarmi via. Piaciuto, guida, adesso il sistema è che è tutto. Il video è finito. Andate. Nella prossima puntata di Emo a salvare Shiftry. Il video è finito. Andate in pace. Buon Youtube a tutti!